Buon giovedì 17 maggio. L'invito è prima di tutto a me stesso ovviamente, a ciascuno, di ascoltare, di lasciarci andare alle parole del Vangelo. Il Vangelo di Giovanni di oggi ci porta a una dimensione che ci interroga profondamente relativamente alla nostra fede, alla nostra capacità di accogliere, di ascoltare, facendo sì che la preghiera sorga in noi. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Le paci armate, le paci frutto di un compromesso generato dalla ingiustizia sociale, dalla sete di predominio, dalla formulazione di confini che di fatto negano l'universalità della presenza umana su questo pianeta. La necessità di una costante armonizzazione della biodiversità, la pace di Gesù è altra cosa, da quella che anche noi auspichiamo, auspichiamo alla fine della guerra, ma dobbiamo essere capaci e diventare costruttori, artigiani, artefici di fratellanza e pace allo stesso tempo. E sottolinea ancora Gesù, vado e tornerò da voi, è una promessa, è una realtà, è una promessa allo stesso tempo, andare e tornare. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. non è un abbandono quello di Gesù, non è l'abbandono del destino dell'uomo in preda alle tante tentazioni, no, è una promessa della quale dobbiamo rallegrarci, perché il Padre è più grande di me. Gesù non riassume mai in sé la potenza del Padre, ma l'appartenenza al Padre, che è più grande di lui. Ve l'ho detto ora, perché prima che avvenga, ve lo dico prima che avvenga. Quando avverrà voi, perché quando avverrà voi crediate. C'è un anticipo, una narrazione che riguarda ciascuno di noi, ascoltare la parola e ascoltare una promessa che non è nell'immediato. Ci chiede di perseverare nell'ascolto, nell'abbandonare le nostre stesse esistenze a quella promessa di salvezza che Gesù porta in sé obbedendo al Padre. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. E qui c'è una contrapposizione tra il Principe del mondo, che esprime tutta la brutalità della sua potenza, lo vediamo in questi giorni, non solo nella guerra in terra ucraina, ma nella quantità di guerre che contemporaneamente sono presenti, non solo guerre tra eserciti, guerre economiche che generano ingiustizia sociale, disuguaglianza, mortificano l'esistenza di interi popoli, predazione della terra che genera carestia e obbliga a flussi migratori non voluti. E qual è la risposta che incontrano queste popolazioni migranti e spinte dall'impoverimento e dalla fame? L'ostilità del Principe del mondo. Ma Gesù ci rassicura e sulla base di questa rassicurazione dovremo aprire menti e cuori con coraggio ad agire, vivere nella l'appartenenza al Padre come fa Gesù, obbedire al suo comandamento d'amore e generativo di infinita misericordia e di capacità di stare insieme, di vivere una dimensione comunitaria, una fratellanza universale, fratelli tutti, una realtà da costruire, da corroborare. Laudato sì, sì, altro testo fondamentale di Papa Francesco che ci riporta appunto a questa promessa che Gesù fa ai Suoi discepoli e che nel corso dei millenni continua a essere presente e ci parla, ma per ascoltarla dobbiamo essere disponibili ad aprirci nell'ascolto di questa parola di salvezza. Buona giornata a tutti.